Nicolò Antonio Pedicino e Angelo Zuccarelli, due concittadini illustri di San Giuliano del Sannio, ricordati nel corso di una manifestazione che si è svolta in paese, voluta dall'amministrazione comunale guidata da Rosario De Matteis, due personalità che in campi diversi hanno dato un contributo importantissimo alla scienza moderna. Nicolò Antonio Pedicino, che fu un botanico importante del XIX secolo, ha avuto i Natali proprio qui a San Giuliano del Sannio. Poi ha vissuto la sua vita professionale tra Napoli, Portici e Roma, ma essenzialmente ai San Giulianesi interessa che sia partito da qui per le sue fortune accademiche. Qual è il suo ruolo che ha dato al mondo della scienza? Pedicino ha avuto un ruolo molto importante in un momento in cui il XIX secolo stava dando dei contributi fondamentali. lui, la botanica al tempo era una botanica specistica, si determinavano ancora le specie, era un momento in cui si stava formando una scuola tutta sua e Pedicino infatti riesce a entrare nei meandri delle cose anche più trascurate, se vogliamo, nel mondo della botanica. Non a caso il suo gruppo, il suo gruppo di lavoro, la sua squadra, si occupa di botanica dal punto di vista non solo sistematico, ma anche di licheni, di alghe, di muschi, cioè di quel pezzo, di quei pezzi della botanica abbastanza trascurati fino a quel momento nella storia della botanica. Poi in realtà è anche un rivoluzionario, perché è un eroe risorgimentale. Chi era Zuccarelli? Beh, Angelo Zuccarelli è stato un personaggio importantissimo, un antropologo criminale, ma prima criminalista, per dire meglio, e prima ancora ha fatto un percorso di studi, potremmo dire una gavetta all'Università di Napoli, sempre primeggiando, andando avanti, mostrandosi fino a quando non ha in qualche modo incarnato la volontà, una sorta di missione di ridare lustro all'Università di Napoli e a questa tradizione misconosciuta di antropologia criminale, che risale ben prima dell'Unità d'Italia, proprio al regno delle due Sicilie e a una figura importantissima, che è quella di Biagio Miraglia. Può essere considerato il papà dell'attuale criminologia? Sicuramente un primato ce l'ha, è stato il primo in Italia a insegnare in un corso denominato Antropologia criminale. Il primo, questo è certo. Sindaco De Matteis, il suo Paese ha dato Natali a due personaggi illustri. Due illustrissimi personaggi che hanno dato lustro al nostro Paese, due scienziati, oserei dire. L'amministrazione comunale li ha voluti ricordare oggi, con questo convegno, e poi dopo scopriremo delle targhe e delle effigie che sono vicino alle case dove sono nati.